buongiorno a tutti quanti oggi ho pensato di fare un piccolo video dove vado a parlare di un argomento che ho notato che nessuno ne parla e quindi ho pensato di parlare con voi di questo argomento e così che magari possa essere di spunto o di aiuto allora volevo parlare su quali sono le possibili difficoltà in rasatura ok partiamo dal fatto che se uno si accontenta di un risultato buono al tatto che è buono senza arrivare al famoso bbs o come piace a me chiamarlo bbs assoluto quindi proprio liscio come la fronte ok anche in contropelo va bene tutto bene o male puoi usare qualsiasi rasoio qualsiasi sapone puoi fare quello che vuoi perché non stressi la pelle prendi un po la mano abiti un po la pelle ti fai pelo obliquo e magari un contropelo così veloce ed è impossibile praticamente irritarsi ecco dove che arriva la difficoltà la difficoltà arriva quando voi volete essere lisci cioè in contropelo in qualsiasi zona essere completamente lisci lì non per tutti e ma per tanti gli scatta il problema ok allora quali sono le difficoltà che si possono riscontrare nel momento in cui andiamo a cercare questo bbs il primo quello un po più scontato e che si impara prima è la direzione del pelo per fare il bbs ok ad esempio chi ha la fortuna di avere il pelo che cresce in giù ok quindi fa pelo obliquo contropelo fatto già lì è una gran fortuna perché è una fortuna perché la parte più difficile è sempre la zona collo quindi se tu invece di avere il pelo che cresce così ad esempio come me ha il pelo che cresce per così e di qua il contrario per così lì il contropelo lo dovete fare da sto lato qua e che dov'è che risulta difficile perché vedete se voi appoggiate qua la pelle il collo fa la curva quindi voi praticamente radete qua nei lati ok radete nei dati e in mezzo c'è la pancia quindi dovete premere un po e li andate a irritarvi a farvi il taglietto e ora dovete imparare a stendere bene la pelle fare di tratti un pochettino più corti e di andate insistere quando andate insistere quando che mi date vi create i problemi quindi già qui perché tante volte dico c'è bisogno soprattutto piano finisco l'argomento soprattutto sapete anche una pelle delicata come la mia che basta che appoggiate un dito e diventate rossi quindi andare a insistere lì c'è bisogno di lamette selezionate ecco perché non tutte le lamette vanno bene dovete selezionarle lamette trovare dei rasoi che non siano né troppo milde né troppo aggressivi che abbiano la geometria giusta per il vostro viso che abbiano delicatezza ma nello stesso tempo che abbiano la giusta profondità lì ci vuole la ricerca ci vuole la selezione e ci vogliono anche saponi ok che abbiano protezione che abbiano una buona scorrevolezza che abbiano tutte le prestazioni per portarvi a questo bbs senza problemi lo so anch'io che per farci la barba va benissimo anche un sapone da un euro un proraso qualsiasi altro sapone ma ci sta però dipende dove voi volete portare la rasatura se come vi ho detto fate tac 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 va bene qualsiasi sapone anche senza sapone ma quando cominciate a ricercare bbs e avete magari una pelle delicata una ricrescita del pelo difficile e lì ragazzi miei una lametta un sapone di qualità può fare tantissimo la differenza almeno su di me la fa altro problema ed è un problema che ho tra virgolette me ne sono accorto negli ultimi mesi qua perché ho fatto la barba qua qualche mio amico ho insegnato un po le basi della rasatura tradizionale degli amici dal vivo e quindi mi sono accorto di una cosa che io non avevo mai neanche valutato che è la crescita del pelo che può fare una differenza enorme tanti dicono eh ma se fai troppe passate significa che non sei capace devi imparare l'angolo devi imparare qua o là perché certa gente ragiona in un certo modo perché ragiona con la propria faccia invece di ragionare anche con la faccia degli altri vi spiego il concetto se voi avete il pelo ok facciamo pinta che questa qua sia la pelle ok questa è la pelle questo il pelo se voi avete il pelo che cresce e vi assicuro che c'è gente a cui cresce magari leggermente leggermente così magari ne qua nel collo un pochettino più piegato ma cresce quasi dritto voi fate il pelo e lo avete già quasi praticamente portato via ok fate un obliquo ok per così obliquo e lo portate giù così fate anche un semplice contropelo tac e voi siete lisci invece io ho il pelo che cresce così eccolo la quasi praticamente aderente quasi aderente alla pelle se a me cresce la baba non mi va in giù diventa un fullo praticamente quindi a me cresce il pelo così allora cos'è che succede che a me fare il verso del pelo così o fare anche un obliquo non mi cambia quasi niente ecco perché io quando voi vedete anche col cielo la barba di 3-4 giorni è raro però mi capita magari farmi la barba di 3-4 giorni faccio il pelo e quando arrivo qua faccio praticamente un obliquo direttamente non mi cambia nulla perché avendo il pelo che cresce così e tu lo prendi per così o che lo prendi per così non cambia quasi nulla ok dov'è però che sta la difficoltà la difficoltà è nel contropelo perché quando voi avete un pelo tanto tanto obliquo dentro la pelle ok che cresce così quando voi andate a prendere il pelo ok che è tanto piegato la lama questa qua facciamo finta questa sia la lama la lama va sotto il pelo prova a tagliarlo male lo alza un po tac lo taglia il pelo ricasca giù ripassate alza un pelo lo taglia e casca giù quindi dovete passare più volte prima di arrivare a essere quasi sotto cioè a non sentirlo più in contropelo dovete continuare a insistere purché arrivi in profondità cosa che ho notato esempio un mio amico che aveva il pelo che cresce così voi fate anche un obliquo ok un contropelo veloce ed era il liscio che un liscio che faccio fatica arrivarci io facendo pelo obliquo contropelo e anche i ritocchi quindi questo questo aspetto qua quindi la crescita che avete del pelo più cresce aderente alla pelle ok quindi proprio in orizzontale il pelo più avrete difficoltà arrivare al bbs e lì è importante avere lame efficaci ecco perché ad esempio cosa succede che con lame molto ricoperte come le derby che hanno 4 5 coperture che danno tanta scorrevolezza ma non hanno un taglio molto efficace continua a passare il pelo continua non lo taglia quasi neanche lo solleva solo lo fa ricadere lo solleva e lo fa ricadere lo solleva e lo fa ricadere e tu li tiriti perché continui a passare 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 e non arrivi in profondità una stainless ok che magari è un po aggressiva ma quando voi vi fate una buona mano la stainless cosa fa si aggancia nel pelo non lo fa scivolare non ci passa sopra lo fa scivolare si aggancia nel pelo si aggancia che lo taglia si aggancia lo taglia due tre passate e siete in bbs ecco perché magari chi ha questo problema qua si trova molto bene con le stainless e magari chi ha un pelo abbastanza dritto con con una derby di amai o a me mi scorre io faccio una rasatura delicatissima faccio pelo contro pelo sono liscio è sì sulla tua faccia si sulla mia si usa una derby neanche dopo quattro giorni capito di venere arrivo veramente di bbs come lo cerco io ecco ci tenevo a a dirvi queste mie considerazioni spero che a qualcuno possa essere possano essere utili perché così capisce come mai perché fa facile come può anche essere che qualcuno dica ecco perché faccio fatica ecco perché non arrivo a questo fatidico bbs perché devo insistere allora lì tiraggio del pelo la mano il rasoio lei la meta adatta il sapone che protegge quindi ti permette quella passata in più sono tutte cose che dopo in rasatura fanno una differenza enorme dai ragazzi vi saluto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima fatemi un regalino iscrivetevi al canale e lasciate un like a voi non costa nulla a me aiutate a sostenere il canale magari quando un giorno prenderò qualcosina magari mi aiuterà anche ad avere una buona fotocamera magari prenderò qualcosa che comunque andranno spesi sulla passione su questo canale a beneficio di tutti di certo non divento ricco e non ne farò un guadagno quindi ci vediamo grazie sempre del fatto comunque che mi seguite mi fate compagnia e siete attivi e ci vediamo al prossimo video